Cazzo Napoli 24, mister, buon pomeriggio, le chiedo delle condizioni di Sabato di Sirigu hanno i racmani di Godemme che hanno fatto personalizzato, come stanno se c'è una linea temporale per quanto riguarda il loro ritorno e vista chiaramente del Twitter? Allora, Sirigu sta facendo un programma che prevedeva poi delle valutazioni step by step e siamo contenti del livello che ha raggiunto e quando si rientrerà ricomincerà a fare un po' di allenamenti, così come Rachmani era stato valutato di riniziare poi, di sfruttare questo break per fare delle cose a secco, per rimettere dentro quelle qualità che bisogna allenare in questo momento qui e poi rinizierà con la palla quando si rientra giù, Demme a questo affaticamento muscolare ma senza lesione e per scopo precauzionale però lo terremo fuori in questa partita di domani sera.